Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Prodigic E benvenuti di nuovo nella Black Friday Week Oggi però vi parliamo di quello che potete risparmiare con un PC Sono proprio contento di fare una build di questo tipo Perché questo PC è effettivamente potente E soprattutto rispetto alla build che abbiamo fatto due settimane fa Il prezzo è più o meno quello Ma le prestazioni sono superiori e non di poco Infatti nella build di qualche settimana fa di cui vi abbiamo parlato Se ricordate abbiamo proprio introdotto il discorso del Black Friday E che ci sarebbero potute essere offerte Che potevano far cambiare completamente la faccia di quella build lì E di fatto sono uscite Esatto esatto Ma prima ragazzi il video di oggi è sponsor by U-Keyes U-Keyes ormai sponsor storico del canale Più di due anni Sono più di due anni che ci supportano E che appunto hanno diciamo riempito anche i vostri Le vostre case di Windows 10 Tutte le varie chiavi che offrono sempre in sconto E che trovate sempre in testa le descrizioni Ma non solo Perché potete prendere sia Office che Windows 11 o 10 Con degli sconti Basta mettere PD20 come codice Una volta aggiunto nel carrello il prodotto Che sia Office o Windows Per avere il 25% di sconto sul prodotto Quindi portarvi a caso una chiave PC a un prezzo veramente stracciato Ad esempio Windows 10 Con ovviamente la possibilità di aggiornare gratuitamente A Windows 11 Lo andate a pagare con il codice sconto PD20 Poco più di 15 dollari Che sono quanti? 14-13 euro O ancora l'Office nella versione quella Ovviamente con il pacchetto a pagamento del 2019 Che scontato con il nostro codice sconto Arrivate a pagarlo circa 42 dollari E non è il 365 che devi pagare mensilmente Ma ce l'avete finita lì Quindi è molto comodo La procedura come detto è molto semplice Trovate i link fissati qua sotto in descrizione Aggiungete il carrello Mettete il codice sconto Potete pagare con PayPal Tantissimi di voi l'hanno già fatto Ma lo usiamo tutti ormai da più di due anni Per cui vi lasciamo tutto qua sotto in descrizione Ma ora torniamo a noi Siamo nell'intorno dello stesso prezzo Ve lo spoileriamo subito 1150 euro Questa build non è di fascia bassa E nemmeno di fascia media Perché secondo me questa è una fascia di build Già medio alta Ovviamente è una fascia altissimissima Sono le nuove schede che stanno per uscire Però questa secondo me è una build che Per il 90% di voi è perfetta Anzi Forse anche di più Ed è a base Intel chiaramente Questo perché non perché ci sono stati sconti particolari Sui processori Ve lo abbiamo detto 20 euro Su 12.900 Su 12.900 In questo caso non posizioniamo Un 12.900 Perché giustamente Dobbiamo mantenere un pochettino i costi Partiamo da una fascia di 5 Con un 12.400F E soprattutto Ci sono stati diversi sconti Sulle schede madri Intel B660 Z690 Infatti venerdì vi abbiamo parlato Delle MSI bazooka Però è andata letteralmente Divastata Quindi è finita subito Adesso vi mettiamo un'altra MSI Che è quella più in sconto possibile Al prezzo più basso Non è una meraviglia di schede madre Però comunque il suo lo fa Se volete spendere qualcosa di in più Si trova qualcosa Comunque Per fare un Proprio La ciliegina sulla torta Però comunque questa Il suo lo fa Tra l'altro A proposito di schede madri Dovrebbe esserci anche qualche modello Z690 Che vi lo ricordiamo È aggiornabile anche con i 13.000 Quindi se voleste fare una cosa Un pochettino più Future proof Ci può stare anche un approccio del genere Ovviamente in quel caso Puntate a una build di un'altra fascia Probabilmente Se puntate a una Z690 Il case non è novità È l'oversteel azura Però è veramente bello Il prezzo è interessante Ormai innamorati di questo case Lo avete visto qualche mese fa In una build Che abbiamo fatto Proprio tutta scontata Nel periodo di sconti Della Gaming Week Se non ricordo male Bellissimo Super compatto Con dentro praticamente Tutto quello che può servire E appunto Costa un cazzo Oggettivamente Per la RAM Non c'è tantissimo sconto Però il Black Friday Non è ancora iniziato Questa è la Black Week Però ovviamente Si può ottimizzare Su alcune cose Quindi magari qualche RAM Andrà di sconto Al Black Friday Però qua abbiamo messo Le Kingston Fury Che sono andate Un prezzo comunque decente E vanno bene Per quella che è la build Comunque Ci sono delle RAM In sconto ragazzi Però il punto è che Non hanno ancora raggiunto I prezzi Quelli a cui siamo abituati I 50 euro Esatto Per cui se dovesse essere Che venerdì Viene fuori qualcosa di più O in questi giorni Viene fuori qualcosa di meglio A livello di prodotto prezzo Ci può stare Anche perché Tutti questi sconti qui Di cui parliamo nel video Saranno validi da qui Fino a lunedì prossimo anche Abbiamo messo anche Un dissipatore ad aria Perché ci sta Non abbiamo messo lo stock Quindi abbiamo messo qualcosina Per dargli un boost Di dissipazione in più Che è il Deepcool A K400 Che va benissimo Per il processore Che stiamo mettendo 12400F Non è che stiamo parlando Del 13900 Un singola torre Tranquillissimo Che perde qualche euro Il suo prezzo abituale Che sta sui 40 euro Adesso dovrebbe stare sui 30 Abbiamo un alimentatore E-Tech Il consiglio giusto Questo non esplode No esatto Ed è comunque Un ottimo modello Perché è full modulare 80 plus gold Da 750 watt Quindi è comunque Un ottimo modello E appunto Non è di quelli che esplodano Esatto Come SSD C'è il P3 SSD 4.0 Vi ricordo che Le api da Red Storage Sono state pubblicate Ufficialmente Quindi Già a gennaio Avremo Forspoken Che è il primo gioco Che si utilizza Quindi ci sta adesso Dotarsi di un NVMe Qua abbiamo 4.0 In sconto E va bene Il P3 tra l'altro È andato a ruba Già nei giorni scorsi E probabilmente Verrà continuata A rifornirsi Lo stock Diciamo Di questi prodotti Ci sono tanti SSD Anche in alternativa Ci sono gli SN850 SN850X Che sono andati A buon prezzo Quindi anche qui Decidete voi Ovviamente Se sfruttate Questo periodo Di prezzi Per recuperare Un Gen4 È sicuramente meglio Ovviamente Questa build La cosa che diciamo Ormai da mesi È che ovviamente Non siamo nel 2021 Dove ovviamente C'è la 90 L'80 Tutte schede Sopra 1500 euro Quindi non si può fare niente Qua abbiamo Una 6800 A 499 euro Che comunque È un prezzo Che ci sta Per una scheda Per una 6800 Ci sta Decisamente più potente Della 2080 Ti Che ha performance In più E veramente È una delle schede Che abbiamo preferito Quando sono uscite Allora Le Diciamo Le schede 6000 Ovviamente Se avete più budget 250 euro in più Di 500 euro Di questa scheda C'è la 6900 Che va parecchio di più Comunque di questa E picchia Come un fabbro Comunque Quindi C'è scelta In questo momento Per diverse fasce Questa build Con questo 6800 Conto sono 1100 euro 1100 sì E rotti È comunque Una scheda Che è circa Il 55 60% Meno della 4080 Sì Ma costa 1100 euro Praticamente La sola 4080 Costa più di 1500 E il discorso Era proprio Quello che facevamo All'inizio Nella build Delle settimane scorse C'era una 6650 Quindi già con La stessa Fascia di prezzo Abbiamo una 6800 La 6650 Va come una 2080 Quindi Il raster Quindi vedete Il distacco Che c'è fra Questa e la 6800 Non è proprio Poco E stiamo parlando Sì Comunque Alla fine Il prezzo Della build È di Quanto 50 60 euro In più Però Vi state portando a casa Qualcosa di decisamente Più importante Abbiamo proprio Voluto fare La build Pre Black Friday E la build Durante il Black Friday E tra l'altro Questo non è neanche È la settimana Il Black Friday Infatti Proprio per questo Vi diciamo Che questi sconti Di cui parliamo Questa build Potrebbe sicuramente Cambiare in questi giorni A seconda di come Vengono finiti Gli stock Oggettivamente Perché già tante cose Sono state esaurite Però Possono anche Essere introdotti Nuovi prodotti Soprattutto con L'avvicinarsi Del Black Friday E del Cyber Monday E del weekend Prossimo Sostanzialmente Potete tranquillamente Puntare a questi prodotti Che dureranno Oggettivamente Ancora per tutta la settimana Se dovesse finire qualcosa Probabilmente arriverà Anche qualcosa Di più interessante Verso venerdì Nel caso Il Black Friday Esca una scheda video Questa scheda A 400 euro Fate il reso Esatto E si prende quello migliore Quindi ovviamente L'invito è sempre State all'occhio Soprattutto in questo periodo Sui canali Pro di Gicoferta Che trovate qua sotto Per tutto quello Che uscirà In questi giorni Da qui al lunedì prossimo Lunedì 28 Noi Ogni cosa Che verrà in sconto La segnaleremo Assolutamente Proprio come abbiamo fatto In questi giorni Tra l'altro Questo è il pc Però Non so se avete visto Che monitor Sono andati di sconto L'altro giorno Infatti Tra l'altro C'è stato a 169 euro L'ho pubblicato anche Sulle storie Perché era Veramente folle Ero a Barcellona Eravamo a Barcellona Alle 20 md gigabyte E praticamente L'ho pubblicata Perché ho detto Di solito Non le pubblico Le offerte su storie Perché era una roba 169 euro Quad h di 27 pollici Comunque Un buon monitor Non è censo Però chiaramente A quel prezzo Non è l'OLED Che avete visto Qualche settimana Sul canale Ma ragazzi 169 euro Ma non solo C'è un prezzone folle Non solo Perché anche gli MSI Che avevamo detto Nel video Dell'altra notte L'Artemis da 27 pollici È andato a ruba A sud E costava la metà A 2,40 È andato veramente a ruba Costava la metà E ancora oggi Ci sono disponibili Tanti monitor Oltre a tutte le periferiche Che potreste trovare Ovviamente lo sapete benissimo Quindi ci sono ancora Tante cose Per farsi un bel setup Un bel pc Completo E tante ne arriveranno Quindi vi lasciamo Tutti i link qua sotto Prodigio Cofferte Giustracket E tutto Seguiteci anche su Instagram E su TikTok Facciamo qualche contenuto Un po' diverso dal solito Quindi ragazzi È partito Anche se già Prendete qualche giorno Cerchiamo di tirarci fuori I bei prodotti A meno Io sto comprando La cartigenica Io non ve lo dico Cosa sto comprando Lo vedrete più avanti Quindi Ah scriveteci Cosa state comprando Esatto Fateci sapere qualcosa Lo spazio è tutto vostro Fateci sapere Tutta la vostra lista Della spesa Che state buildando In questi giorni E alla prossima Ragazzi Grazie a tutti